Momenti di tensione, brutta situazione per quanto riguarda la questione americana, nuovo attentato, un presidente degli Stati Uniti o un candidato presidente in questo caso, per l'ennesima volta sarei di dire gli Stati Uniti sono ormai famosi per questa questione e c'è chi dice è inventato o non è inventato sicuramente un momento drammatico anche perché l'attentatore è stato anche ucciso e quindi in pratica insomma mi viene difficile da pensare che sia una farsa o una cosa del genere dove alla fine ci scappa un morto purtroppo tra le altre cose un giovanissimo di 20 anni attentato a Trump che ovviamente lo porta ad essere se già insomma non lo era praticamente il candidato più naturale e vincitore delle prossime elezioni già in molti avevano dibattuto sulla questione legata alla precedente elezione dove Trump dichiarava insomma che hanno stati falsificati i voti eccetera in questo caso le prossime elezioni sembrano ormai diventare monoparte ecco diciamo così perché con questo attentato si sa poi la questione della mediatica eccetera favorisce ampiamente il candidato repubblicano quindi Donald Trump alla presidenza alla Camera alla Casa Bianca. Questo ovviamente è impattato anche sui mercati cripto lo vediamo al di là insomma del momento che comunque è sempre un momento drammatico soprattutto per l'attentatore che ahimè poi è stato ucciso direttamente sul tetto ed era veramente molto molto giovane. Tra le altre cose sembra che sia dovuto intervenire anche Biden per quanto riguarda questa questione e anche sul cosiddetto il capo del servizio segreto degli Stati Uniti che è addirittura sotto accusa in questo momento e sembrerebbe che alcuni stiano chiedendo la sua testa non la sua dimissione licenziamento per l'incompetenza nel gestire questa situazione e Donald Trump alla fine diciamo non ha subito riportato danni e tra le altre cose insomma ha reagito in maniera da forte personaggio. A dire la verità chi conosce anche la storia di Donald Trump eccetera non si aspetterebbe niente altro che questo dal personaggio in questione perché Donald Trump fa parte di quella categoria anche di soggetti che reagisce ad una sfida di questo tipo in maniera ancora più forte quindi per andare a raggiungere ancora di più i suoi obiettivi l'ha sempre fatto e nel suo DNA e nelle sue biografie diciamo è la natura del personaggio. Quindi in questo caso ovviamente lui ha alzato il pugno e quant'altro dicendo combattiamo combattiamo eccetera. America sicuramente non all'apice dei suoi momenti storici più gloriosi che lascia un pochettino anche questa fase ma parliamo in questi video ovviamente di economia e di finanza soprattutto perché i mercati cripto hanno reagito in maniera notevole soprattutto bitcoin ma era già nell'aria ragazzi. Allora qui è sempre la stessa situazione ora ne riparliamo ma sabato domenica e oggi lunedì già sabato era iniziata una reazione con un livello importantissimo di resistenza che era stato breccato e poi successivamente la notizia di Trump ha dato il l'ha. Tra le altre cose perfetta l'analisi che abbiamo fatto nel scorsa settimana in pratica un orologio svizzero già nel video di venerdì vi avevo parlato di questa possibilità ma era abbastanza palese e tra le altre cose ne stavamo parlando da un po' dobbiamo cantare vittoria possiamo cantare vittoria no perché adesso andiamo a vedere lo scenario insomma di cui vi avevo parlato anche nel video di venerdì che vi avevo detto ne parliamo solo se appunto avviene questo livello di rialzo. Ovviamente tutte le operazioni di trading fatte su bitcoin lo ripeto ribadisco da più di un mese andavano gestite e in posizione solo verso il long proprio perché un'eventuale accelerazione e rimbalzo vedremo oggi in questo video che non è che questo rimbalzo attuale è un rimbalzo che già ci può fare ben sperare per mille motivi sicuramente è un fattore positivo ma dobbiamo tener conto di un scenario ciclico di cui parliamo proprio in questo video però questo tipo di movimento andava cavalcato precedentemente perché poi è spiazzante così si definisce quindi diventa difficile accedere a un rialzo del genere che va comunque tradato long proprio perché ha tutte le carte in regola anche volendo di fare nuovi massimi storici senza batterci io e solo uno scenario invece che andrà monitorato è uno scenario che ormai è facile anche da monitorare. Detto questo ragazzi ovviamente prima di andare avanti parleremo anche di un po' di quelli che sono i calendari economico ma prima vi chiedo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e soprattutto lasciatemi i pollici per questi video ragazzi che sono veramente accaldato e molto stanco anche dopo un anno di iper lavoro perciò su quei pollici mi date una mano a me personalmente. Allora detto questo per quanto riguarda la questione dei dati economici di questa settimana ci sono una spizza di dati ma non rilevantissimi abbiamo l'IPC dell'Europa che avviene che sarà pubblicata mercoledì quindi l'IPC è il tasso di inflazione dell'Europa e vedremo anche in questo caso un dato inferiore alle attese potrebbe essere visto bene dai mercati perché in realtà un po' quello che succede all'Europa poi succede anche agli Stati Uniti un po' di influenza reciproca c'è sempre. È chiaro abbiamo imparato a comprendere che i movimenti dei dati macro europei non influenzano i mercati più di tanto però teniamola in considerazione sicuramente il dato più importante di questa settimana. L'altro dato secondo me più importante di questa settimana sono le richieste dei sussidi di disoccupazione che verranno pubblicati il 18 di luglio. Poi è vero c'è la decisione sul tasso di interesse della Banca Centrale Europea che però è già stimato e previsto al 4,25 e difficilmente cambierà quindi anche in questo caso la decisione sul tasso di interesse non dovrebbe avere alcun impatto sui mercati da questo punto di vista. Invece la richiesta dei sussidi di disoccupazione sì soprattutto se saranno molto più alti del previsto. Attenzione perché qualcosina si è iniziato a muovere per quanto riguarda gli Stati Uniti e i tassi di disoccupazione che iniziano a salire sono ancora di più confermerebbero ancora di più l'intenzione poi della Federal Reserve di fare il terzo taglio di tassi entro la fine dell'anno e non soltanto i due che ormai i mercati in pratica stanno dando quasi per certo. Andiamo a parlare della questione invece su Bitcoin guardiamo che non soltanto Bitcoin ha reagito ma anche ETH ha reagito esattamente come Bitcoin non è cambiato il rapporto di cambio Ethereum BTC in queste ultime settimane qui scenario appunto in barra di congestione che significa che come si muove Bitcoin si sta muovendo anche ETH. Questo invece è il grafico di cui abbiamo parlato nel video di venerdì ragazzi ve ne avevo l'ultimo grafico che vi ho mostrato venerdì e guardate la precisione di questo grafico è il rapporto di Bitcoin verso Nasdaq 100 il confronto tra Bitcoin e Nasdaq 100 questo chiusura sembra proprio la chiusura di un ciclo ancora un po' presto per avere conferma ne avevamo parlato venerdì se conferma questo indicatore dal mio punto di vista è un indicatore molto attendibile perché è un grafico che pur non può essere tradato ha più volte dimostrato di avere meno imprecisioni cicliche del grafico vero insomma di Bitcoin cioè quello proprio del grafico spot nonostante appunto vedete che anche Nasdaq sta facendo in pratica la sua naturale linea retta praticamente sembra una linea retta varipolata ragazzi che è facile trattare mercati o investire mercati del genere quanto tempo potrà durare ancora una roba di questo tipo dove veramente il pilota automatico nei mercati classici con queste emissioni di liquidità che vengono rigettate sui mercati questi pieni di accumulo mondiali che avvengono costantemente quanto tempo potrà durare ancora una roba del genere oppure assisteremo a un cambio anche di questa struttura io ho visto mercati decisamente diversi da questi negli anni passati ragazzi e questi sono non facili sono facilissimi i mercati più facili della storia della finanza mondiale quelli di questi ultimi dieci anni circa comunque andando a noi parliamo anche della questione dell'analisi ciclica perché iniziamo a introdurre quello che è lo scenario di cui volevo anche parlarvi oggi su questo livello del minimo del 5 di luglio 2024 Bitcoin ha iniziato un nuovo ciclo mensile questo ormai è un dato di fatto quindi la struttura ciclica mensile precedente è stata sviluppata si è sviluppata in questo modo abbiamo avuto un primo ciclo mensile da 30 giorni e un successivo ciclo mensile da 35 giorni che ha composto con probabilità un ciclo trimestrale attenzione perché questo è un trimestrale un po' cortino quindi quindi questo rialzo fin tanto che non supera alcuni livelli e mi riferisco a questa aria di prezzo almeno 64, 65,5 quindi almeno deve salire sopra i 64 senza ombra di dubbio non può scongiurare l'idea che questo movimento sia ancora appartenente al precedente ciclo trimestrale perché se fosse così ha i giorni contati questo rialzo ovviamente ce ne rendiamo conto quando? tra pochissimo perché intanto come vi ribadisco e ripeto per l'ennesima volta da un punto di vista di trading operativo era un solo trade fattibile cioè lato long lo sto ribadendo da un sacco di tempo perché? perché l'ipotesi che questo ciclo possa appartenere al vecchio trimestrale è valida però siccome siamo in chiusura di un ciclo annuale che è un annuale da 300 e passa giorni e il tempo è passato perché dovevamo arrivare fino a metà di luglio e ci siamo arrivati allora quel ciclo, il superiore, il ciclo più grande ha molto più impatto rispetto ai piccoli perciò quello segnava tentare il long e quello è l'operazione che andava fatta anche se questo movimento rialzista ha i giorni contati in ogni caso l'operazione giusta a livello di trading resterebbe sempre quella poi o si prende profitto adesso poco profitto o si va in leggero stop break even è irrilevante da un punto di vista strategico perché quello che è irrilevante da un punto di vista strategico è la logica che sta alla base di questo tipo di operatività che prevedeva solo questo tentativo però questo tipo di ciclo che avevi iniziato è sicuramente un nuovo ciclo mensile io ora qui vi ho inserito il classico da 15 giorni quindi le due settimane poi posizionerò un ciclo che si porta al 9 di agosto come sua naturale struttura è come se dovesse fare un naturale percorso così per poi andare a chiudere questa struttura ciclica verso agosto io l'ho fatto giusto per farvi il disegnino ragazzi che sarebbe questo il disegnino ma ovviamente i cicli poi si sviluppano in maniera diversa questo per esempio era ribassista e ha avuto questo tipo di sviluppo nel momento in cui andiamo a ragionare su questa questione ora dobbiamo attendere un po' di mosse anche per capire se questo ciclo fa parte o meno del precedente trimestrale se fa parte del precedente trimestrale può ancora farlo deve andare a chiudere sotto questo minimo con un doppio minimo ciò significa che probabilmente stenterà a superare quest'area si fermerà e dopo un po' inizieremo ad assistere a ribassi poderosi tanto da fare questo tipo di movimento questo è lo scenario peggiore secondo me in questa fase non vedo un altro tipo di scenario peggiore quanta probabilità ha questo scenario negativo di andarsi a verificare? io gli do un 40-45% massimo di probabilità perché intanto voglio vedere anche se i 64-65 vengono superati però la probabilità gliela do più bassa perché il tempo naturale per la chiusura del ciclo annuale di bitcoin da 300 giorni è passato perché qui siamo nell'ambito di cicli un po' più brevi rispetto ai precedenti e quindi avevamo fatto 295 e 298 in questo punto ovvio io più sono lunghi meglio è ovviamente in questo caso quindi se dovessimo andare avanti a chiudere questo mensile arriveremmo a 330 giorni che non è un'anomalia da un punto di vista dell'annuale però in ogni caso i 300 giorni 298 ci sono stati ora da questo punto di vista è meglio essere a favore di questo trend rialzista perché se bitcoin vuole continuare a riprendere il rialzo visto che comunque è in trend rialzista dal 2023 non ha bisogno di stare lì a fare doppi minimi e dare diversi ingressi parte se ne arriva a fare nuovi massimi senza problemi non ci sono vincoli di sorta perché tempisticamente tutto quello che doveva fare le correzioni, le correzioni in termini percentuali le correzioni delle altcoin sono state tutte rispettate quindi non abbiamo necessità di avere un altro mensile in barra di congestione a volte lo fa a volte lo fa perché? perché magari i mercati non amano ripartire così a bomba poi siamo d'estate magari potrebbe insomma decidere di non essere troppo impulsiva questa fase e magari fa un ciclo del genere ovviamente alla chiusura di questo livello ciclico mensile se è rialzista e quindi abbiamo un minimo superiore a quello del 5 luglio ovviamente qui avremo la conferma che qui è iniziato un nuovo trimestrale e quindi anche un nuovo annuale al di fuori di questo concetto quindi quanto abbiamo? abbiamo questa settimana e l'altra di un po' tumulto per comprendere cosa sta facendo questo tipo di mercato al momento reazioni di questo tipo sembrano sempre essere molto simili a quelle di partenza dei nuovi annuali come quello che era già avvenuto precedentemente guardate qui per esempio questa fase era avvenuto con questo primo spuntone al rialzo e poi la naturale congestione quindi qui abbiamo avuto un 10% rialzista per poi andare a chiudere tutta questa fase intorno a 14 giorni e poi fare il mensile guardatelo qui il mensile di cui vi sto parlando per 30 giorni fatto a modi M classica la M di Mauro scherzi a parte ragazzi allora qui abbiamo una partenza ancora più a bomba delle precedenti addirittura dal minimo siamo già a più 18% di recupero ovviamente dei prezzi un po' più medi diciamo senza shadow dalle chiusure siamo a un più 12-13% però comunque è un recupero già importante se si dovesse fermare questo movimento allora potremmo anche riprendere in considerazione lo scenario che vi dicevo quello del mensile che appartiene ancora al precedente ciclo trimestrale in morale della favola monitoriamo questo livello di resistenza importantissimo 64-65% già dovesse farlo domani una breakout di questo tipo ragazzi ha pochi pochi probabilità di appartenere al precedente movimento ce l'ha ancora a livello tecnico però a livello poi di estensione di volatilità non avrebbe senso già non ha senso considerarlo adesso a livello operativo non avrebbe senso neanche in quel caso si potrebbe solo mettere uno stop a livello operativo un trading stop alle eventuali operazioni ma andrebbe naturalmente considerato come una possibile inizio di uno ciclo annuale che cosa può succedere se effettivamente questo ciclo attuale confermerà il nuovo annuale di bitcoin quello che ci stiamo aspettando aspettando da tre mesi quello che vi dico da tre mesi quelli per cui vi ho fatto la testa così da tre mesi quello per cui la maggior parte di voi non avrà ascoltato probabilmente come sempre avviene e poi ritorniamo qui a settembre-ottobre a rifare a ridire le stesse cose la stessa identica situazione anche sui mercati delle altcoin e vi ho fatto un video la precedente settimana dove vi parlavo che il momento migliore del settore cripto era proprio qualche giorno fa proprio per questi motivi perché se è partito appunto questo nuovo annuale avremo grandi potenzialità davanti a noi ma non solo bitcoin anche le altcoin andremo a prendere in considerazione nei prossimi video nel prossimo video parliamo anche di questa possibilità del nuovo annuale se riparte o non riparte e grandi potenzialità nel senso che possiamo andare in dirittura d'arrivo a fare alcuni nuovi massimi attenzione che questo è un annuale particolare quello che se dovesse essere partito perché dovremmo tenere in considerazione anche la possibilità che quell'annuale poi vada a concludere è un movimento più largo di cui parleremo con calma ma tempo ce n'è 300 giorni sono quasi un anno fatemi sapere cosa ne pensate e soprattutto vi faccio una domanda a titolo mio personale di sondaggio personale chi di voi ha ascoltato le mie diciamo dan 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 i miei ragionamenti ed è riuscito a gestire a organizzare delle strategie per salire su questo movimento prima che questo movimento sia sviluppato ovviamente siete esclusi voi dell'academy ovviamente seguite le operazioni che ho pubblicato io quindi vabbè lo potete anche scrivere anche voi però lì non conta diciamo siete più facilitati però chi di voi ha seguito queste cose perché vorrei anche comprendere se effettivamente questo modo di parlare è facile anche per voi che mi seguite da veramente tanto tempo da comprendere al di là appunto dei singoli problemi personali che nelle operazioni di trading sono sempre da risolvere a livello personale come le paure la parte psicologica ragazzi lì io non posso far nulla ma se non dirvi studiate 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 e formatevi però da un punto di vista operativo ovviamente tante diritte io ve le do poi c'è magari qualcuno che ne approfitta perché sa come fare quello è il discorso fatemi sapere cosa avete combinato nei commenti ci confrontiamo lì ciao ciao